Si sa che il difficile non è educare un cane, bensì il suo padrone. E una delle questioni su cui si cerca maggiormente di sensibilizzare i proprietari riguarda proprio le deiezioni dei loro amici a quattro zampe, che abbandonate nei luoghi pubblici e nelle aree verdi, oltre a creare problemi igienico-sanitari, spesso riservano sgradite sorprese. Per promuovere il miglioramento della qualità dell'ambiente, dell'igiene e del decoro urbano, il Comune di Bacoli, in collaborazione con la Flegrea Lavoro, ha favorito nel novembre scorso l'installazione presso la villa comunale di due dog toilet a scopo sperimentale. I dog toilet mettono a disposizione dei proprietari di animali domestici gratuitamente sacchetti per la raccolta delle deiezioni, da depositare poi nell'apposita sezione di raccolta. Visto il riscontro positivo, il Comune di Bacoli, nella persona del Sindaco della Ragione e dell'assessore alla nettezza urbana Alessandro Parisi, ha autorizzato la Flegrea Lavoro ad installare altri dieci dog toilet da collocarsi nelle aree del Fusaro, di Baia, di Torregaveta, Cappella, Miseno, Miliscola e nel centro storico di Bacoli. E' bene ricordare, come sottolinea anche un'ordinanza sindacale del giugno 2015, che raccogliere le deiezioni degli animali domestici è un dovere e un atto di civiltà, volto alla salvaguardia non solo dell'uomo, ma anche dei suoi amici a quattro zampe.